Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Denizen, la mia voce è un po' quella che è perché sono riduce dalla live di Marbula 1, quindi ho parlato e urlato tutta la sera in live. Oggi proviamo Denizen che significa letteralmente abitante ed è un gioco che è uscito in Early Access su Steam dove noi siamo un abitante di una città insomma dove possiamo essere a detta degli sviluppatori quello che vogliamo. Il prezzo intero del gioco è 20 euro, poi quando lo sto provando io è sui 17,55 quindi qualcosina in meno. Lo proviamo dall'inizio, andiamo a scegliere, avrà una parte anche social quindi una parte dove potremo fare amicizia con altri. Le personalizzazioni sono veramente minime al momento perché non c'è granché, c'è questa parte di trucco, la parte dei capelli, ci sono tre tipi di capelli, possiamo fare uomo donna e niente di più. Le facce non mi piacciono neanche un po', però va bene, tanto direi più così dei bei tempi andati. Va bene, allora Indie e iniziamo. Vediamo il gioco che cosa ci fa fare, avremo il telefono, avremo diverse proprietà acquistabili e personalizzabili. Non sarà il posto più bello della città, un buon inizio, questa è la mia casa. Io sono riuscita, vabbè, a trovare dei mobili nella zona S, devo solo disfare tutto per rendere la casa accogliente, dopodiché devo prendere il telefono a cercare lavoro, non voglio perdere il pagamento delle bollette, perfetto. La visuale è molto smooth, molto bene, non è la classica grafica disagio, siamo qualcosina in più insomma. Possiamo utilizzare il bagno, fare il pieno di energia all'esterno, un letto per dormire, ma ok. Dove sono i nostri... ok, questo è il bagno. È veramente bello, il movimento mi piace tantissimo perché ha ammortizzato tantissimo. Questo è l'abbigliamento, possiamo scegliere di vestire e conservare, quindi possiamo metterci tutto quello che vogliamo, direi che mi vesto... ah, no, sì, 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 sì. Ah, sono... ma sì, dai, esco un po' casual. Devo ancora capire... ok, sì, perché mi di... così? No, dai, un po' too much. Sì, occhiali e un cappello, perrettino così, sì, vabbè, vabbè, va bene. Ok, non so cosa devo fare, nel senso che dovrei personalizzare a casa, utilizzare I per aprire l'inventario. Ok, abbiamo un po' di cose. Abbiamo il letto che possiamo utilizzare e lo posizioniamo qua. Devo capire, scorrere, ok, così lo mettiamo qua. Poi... seggio la da bar, utilizzare... no, non me lo fa usare, perché? Ah, è questa, ok. La mettiamo qua. È un po' bassina, però, eh. Vabbè, mettiamola lì. E una lampada. La lampada la mettiamo qua. Party time. Disponibile in 5 varietà, questo biglietto a strappo, che la dipendenza c'è... ok. Ah, è un gratta e vinci. Non so come si vince, però. Ah, ok, qua abbiamo già grattato tutto. Abbiamo vinto 10. 50. Ok, un po' di soldi li abbiamo vinti. Ce li ha già dati? Boh, mi pare di no. Questa è vernice. Ok, no, questo è tipo la pavimentazione. Però non me lo fa mettere. Vabbè, niente, non credo. Abbiamo nient'altro. Sì, abbiamo questi sgabelli, che fortunatamente non ho messo prima. Ma... ok, mettiamo anche questo. Ok, ma li possiamo usare. Arredamento, interagire, sedere, prendere, uscire, sedere, mi siedo. Perfetto, esco. Ma è molto bello. Questo gioco potrebbe essere interessante. Spray per il corpo. Lo spray per il corpo, combinare resistenza... Eh, ok. Può esplodere se è riscaldato, ok. Qui per... Sì, va bene. Allora, questo va a mangiare. Vernice, guscio d'uovo. Utilizzare la parete. Applicare. Ah, bellino così. Adesso io... Bellino che ci vediamo proprio corpo intero. Comunque queste qui sono wood flowing. Eh, io credo... Eh, vedete, la dobbiamo applicare. Ok. Sì, abbiamo applicato praticamente tutto ormai. Utilizziamo... Lo spray. E siamo pronti a uscire. Vabbè, questo è una stanza d'hotel tipo. Non lo so. Comunque. Usciamo e andiamo un pochino all'esplorazione. Utilizzate il telefono per controllare la vostra agenda. Gestire finanze. Ok. Utilizzare phone per aprire il telefono. E aprire P. Ok. Abbiamo... Possiamo... Touch to unlock. Abbiamo un messaggio. Da Austin. Sta cercando lavoro extra. Passa da me a Cutler. Quando è minuto ti darò i dettagli. Bene. Bellino. Slot. Si possono giocare, scommettere. Internet. Ci sono i vari siti. Eh, perché poi possiamo comprare le auto per fare quello che vogliamo. Questo qua potrebbe essere un gran gioco, eh. Una calcolatrice. 8x8, 64, giusto. Risorse. Abbiamo questa casa. Possiamo aggiungere il mercato immobiliare al mercato degli affitti. Quindi possiamo anche affittare dopo. Ordine del giorno. La mia casa sembra un po' vuota. Ho già acquistato alcuni immobili. Devo solo disfare i mobili. Tra l'altro. Ok. Meglio che tu cerchi un lavoro per pagare il prossimo affitto. Devo solo... Ok. Non ho auto al momento. In banca io ho un saldo personale di 24. Un risparmio di 20. Ho passato le nottate al Fashion Factory e al Night Club. E al Casinò. E ho speso 757 per i mobili. Va bene. Lavori. Operatore, carello, elevatore, barista, cuoco, pizzaiolo. Perché poi ci sono tutti i lavori. Li possiamo fare come vogliamo. Allora, intanto siamo qua. Possiamo prendere l'ascensore. Sì, mamma mia. Che spettacolo. Apriamo le scale e scendiamo con le scale. Ok. Il disagio però sovviene nel momento in cui entriamo nel nostro palazzo. Perché... Ok. Uso del veicolo... Ok, no. Questa è la classica schermata di caricamento. Dove ci dice che possiamo anche andare a lavare l'auto. Ok. Ok, siamo fuori da casa nostra. Questo è... Ok. Possiamo esplorare. Ok. Questa è la casa. Possiamo vedere la mappa. Dove siamo? Siamo qua. A Cutler. Credo. Sì, dovremmo essere qui. Quello è un banco dei pegni. E devo capire dove devo andare. Quindi, vediamo se... Eh, ma dov'è Austin? Non ho idea di dove sia Austin. Quindi... Eh... Siamo a... A Cutler. Siamo già a Cutler. Vabbè, intanto diamo un'occhiata a ispezionare. Ok, ci dà bellissimo risparmio di carburante. Numero di passeggeri. Sì, carburante, sporcizia. Eh... I freni. Ok. Ok, il livello, diciamo, di... Ok. X. Possiamo cambiare la radio. Cos'è questo? Z. Ok, radio off. Esiste la possibilità di cambiare visuale. Intanto in alto a sinistra, che prima non l'avevamo notato, vediamo il nostro livello di energia, la fame, la sete, la pulizia e la necessità di andare in bagno. Comunque, ora siamo al volante. Non saprei dove andare. Però andiamo. Qua accendiamo, non sono tante stazioni, ma... Ok. Non so dove andare. Non so proprio dove andare. La mappa, tra l'altro... Ok. Mountain Spring Road. L'abbiamo appena passato ed era sulla nostra destra. Quindi, praticamente, qui c'era la casa di qualcuno. Vediamo un po'. Esco. Vediamo se c'è... Porta. Interagire. Usa il telefono per acquistare proprietà. No! Ah, ok, ok. In vendita anche questa. Bello il fatto che possiamo acquistarla. Adesso, io, onestamente, non so. La Z me la recupera l'auto. Ok. Ok. Me la fai partire da lì, che è comodo in caso di problemi. Ma non saprei onestamente dove andare. Perché ci sono... Ah, aspetta, 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 aspetta. Lavoro. Ok. Devo tornare indietro. Devo andare da Austin. Selezionandola qua, ci fa vedere dove. Non so se poi ci siano anche i danni nell'auto. Mi sarebbe piaciuto uno visuale in prima persona. Però... Vediamo un attimo se io premo la mappa. Lui continua ad andare avanti da solo. Austin. Pack. Qua abito io. Ah, scusate, eh. Poi nulla ci vieta di avere poi una supercar. Vediamo. Allora, Austin è qua sulla nostra destra. Quindi usciamo. Potete avviare la vostra attività di vendita al dettaglio utilizzando l'applicazione Properties sul telefono. Una volta ottenuto la sede, selezionare... Ok. Diventa un big ambition. Utilizzare R per aprire l'interfaccia di gestione della vendita al dettaglio. Impostare l'inventare. Ok. Bello questo. Che ovviamente non ho niente. No, devo andare da Austin e capire che cosa posso fare. Perché dov'è Austin? La mappa è un gran problema perché non si capisce niente. Medical Clinic. Questo è il Cutler Detail. No. Affittare proprietà. Negozio al dettaglio. Vediamo un po'. Salve. Ah, questo qui vende roba. Hardware. Quindi vende la roba interna, elettronica. Quindi le lampade, la tv. Mi manca. La tv costa troppo però. Michelaneus, il Grimaldello. Mi sa che qua si possono fare anche delle cose un po' illegali. Questo è il banco dei peni comunque. Vediamo. Non si può usare il banco, ma a tal momento. Lavoro. L'applicazione Jobs. Ah, ok, ok, ok. Devo prendere l'applicazione Jobs. Lavori. Cuoco, pizzaiolo, operatore di carrello e elevatore. Vediamo un po' quanto mi pagano. 8 l'ora, 10 l'ora barista. Non lo so. Non saprei cosa fare. Mi pagano bene per fare il barista. Proviamo a fare il barista. Candidati. Domanda presentata. Perfetto. Mi segna qualcosa sulla mappa di dove è il barista. Salve. Si può parlare? Posso fare meno di ammirare le tue scarpe? Dove le comprate? Come è il tempo di soldi questo? Mamma mia. Le ho prese in centro per quanto riguarda il tempo. È imprevedibile dire, è vero. Un giorno c'è il sole. Ma va? Mi sicurano di rimettere il marigio non bello. Ma, vabbè. È proprio... Vabbè. Questa è l'auto di un altro. Io mi sono candidato, ma poi... Vabbè, continuiamo a dare un'occhiata al telefono. Lavori. Barista. Domanda presentata. Mi candido anche per questo. Ho sentito se già... Passa da me a casa da quando è il mio dettaglio. Ok. Vabbè. Lui mi ha detto di passare da lui. Io voglio passare da lui, ma non so dove sia Austin. Cioè, Austin me lo dà qui. Scusi. Cioè, non so dove abiti Austin. Cioè, qua sono di nuovo a casa, quindi... Con le scale mi porta direttamente al piano. Guardate, io abito qui. Ma Austin me lo segna qua. Questo probabilmente è morto. No, niente. Non c'è. Non c'è. Non lo troviamo. E intanto stiamo aspettando anche che ci facciano sapere qualcosa dal lavoro. Comunque io non capisco. Si tipizza. Nuovo messaggio ricevuto. Ok, magari abbiamo qualche info. Ci starebbe bene anche in live il gioco. Grazie per la sua candidatura. Abbiamo terminato. Si è adatto la posizione del suo candidato. Iniziere come operai. Non vediamo loro i premiati con aumenti di stipendio. Selezioni in turno l'applicazione Jobs e si presenti puntuale. La climax. Ok. Ci hanno candidato entrambi. Quindi lavori. Barista. Turno 12. Che cacchio che sono adesso? Le 15. No, facciamo le 18. 18.23. Ok. Mentre l'operatore. Dalle 2 alle 7. Così facciamo. Ok. Quindi. Se andiamo sull'ordine del giorno. Ok. Si inizia al bar. Non so dove sia il bar. Quindi andiamo a vedere. Allora. Aspettate un secondo che devo fare mente locale. Allora. Devo andare. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Job. Lavori. Iniziamo come barista. Alle 18.23. Quindi. Andiamo là. Andiamo al bar. Iniziamo. No. Non voglio fare ispezione. Voglio andare al bar. Utilizzo. Ok. Adesso. Dove dobbiamo andare? Domandona. Bisogna. È lontanissimo. Dobbiamo seguire la strada principale. Non so se si possa. Non so se si possa mettere un segno. Voglio vedere anche lo stato se investiamo qualcuno. Sì. Ah. Le multe. Ok. Ci danno le multe. Non lasciano niente al caso. Io ho visto roba. Che puntava a fare. Quello che cerca di fare questo gioco. Ma in modo molto più superficiale. Anche solo il fatto adesso ci ha avvertito che ci sono le multe. Di solito sì. O compenetrano. O si spingono via i pedoni. In questo caso si vengono proprio urtati. E c'è la multa. Molto interessante. Molto promettente. Devo dire. Potrebbe essere il mio gioco questo. Adesso. Continuiamo. Non costa neanche tantissimo. Resterà in early access. Quindi. Allora. Lakeview. Bisogna andare all'akeview. Andiamo. Non so cosa succede se io urto. Ok. Beh. Questo non pretendo. Che succeda granché. Se non che si danneggi l'auto. Ovviamente non è che ci mettiamo lì a. A fare constatazioni amichevoli. Allora. Intanto continuiamo. Perché il bar dovrebbe essere qua. E vediamo quale sarà il nostro lavoro. Intanto sto guidando contro mano. Ma sto cercando di. Ok. Ok. Dovrebbe essere il primo edificio qui. Che troviamo sulla sulla destra. Parcheggiamo al bar. E vediamo un po' fuori mano. E poi una volta finito il bar. Bisogna andare di là. A lavorare al. Al carrello elevatore. Ok. Questo è il posto dove si lavora. Vediamo. The kitchen post. Non sono in orario di lavoro. Fammi vedere. Eh sì. Alle 17. No. Alle 18. 18 erano. Lavori. Vediamo. 18 sì. Eh sì. Oh ragazzi. Devo aspettare. Alle 18. C'è un modo con cui io posso far passare il tempo. Immobiliare. Eh sì. Le vendono. 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 3 milioni. La megavilla. E sarà da vedere che cosa si potrà fare. Ah aspetta un secondo. Risorse. Le auto. Ho la mia auto che è questa. Va bene. Non ci posso fare neanche. Sociale. Ah si possono messaggiare le persone. Inizio la conversazione. Vediamo. Ho sentito che ti piace il giorniaggio. Ti va di evitare un assassino di piante? Non so dove sta andando questa. Siamo in agile 5G. È una discussione stranissima questa. Va bene dai. Hamburger hot dog. Va bene. Mi ha bidonato. Non so dove. Dove. In che direzione va da questo. questo social di incontri. Ma va bene. Utilità. Parkwest. Bollette giornaliere. Dobbiamo pagare l'elettricità. Bellissimo anche questo. Vabbè. Mancano ormai quasi 10 minuti all'inizio del turno. Si può entrare prima. Giusto per entrare prima. Ok. Grazie. Ok. Ah c'è l'ATM che non è utilizzabile. Dove vado per lavorare? Mi scusi. Buon uomo. Ah ok. Ok. Iniziamo il turno del lavoro. Salve. Cosa vuole? E qua diventa un altro gioco perché ci sono giochi che fanno solo questo. Una birra chiara. Ok. Quindi. Quindi andiamo a fare bicchiere. Ma nessuno mi ha spiegato il lavoro. Ehm. Ok. Ok. Birra chiara. Ok. Prego. Lei. Birra chiara. Cioè devo passare 6 ore così? Cioè che giustamente. È il lavoro. Però. Prego. Vedi qua. Buio. La birra scura. Dark. Ok. Eh lo so che dovete fare Tama'son da solo io signori eh. Eh. Adesso. Vedi qua. Rossa. Una rossa per il signore. Signorina. Arrivo subito eh. Non. Un. Vedi qua. Un fruttato. Ok. Arriva subito. Fruttato per lei. Fruity. Io lo osservo. Sono sciopito da lei. Io intanto se vuole iniziare a dirmi. Grazie. Ok. Lei vuole un fruttato anche lei? Bene. E poi devo andare di notte a lavorare il cannello elevatore. Fantastico. Bello. Bello perché si percepisce proprio la... Miele e fruttato. Ok. Allora. Miele. E fruttato. Sì. Non c'è sosta un momento qua. Ah. Vedete che mi dà i minuti da lavorare. Signora se vuole dirmi intanto una birra chiara anche a lei. Quindi gliela preparo già. Allora. Questo è il fruttato. Al signore. Questo è il miele. Tu cosa vuoi? La chiara. E anche tu vuole la birra chiara. E fammela dare prima all'altro. Eh. Chiara. Questi si arrabbiano. Eh. Rosso e miele. Quindi. Rosso. Miele. Serviamo tutti. Mi servirebbe qualcuno che mi permesse contemporaneamente le cose. La spruzza non... Non la vuole nessuno. E' andata via? Vabbè. Dove prepararle già pronte ma non si fa così. Signore se ne sta andando? Eh. Cacchio. Non me l'appoggiare qua no? Cosa vuoi? Non mi parla più nessuno. Perché? Sono andati via. Non mi... Ok. E lei le do la birra così. Si è buggata. Va bene. Non mi parla più nessuno. Signore. Lei... No. Si è buggato. Comunque vabbè. Perché probabilmente ho le birre già pronte. Gli da fastidio. Comunque bevete quello che vi do. E chi se ne frega. Salve mi dica. Fruttata per lei. Ok. L'ho mandato un po' in crisi il gioco. Sono... Ho... Ho lavorato troppo... Preventivamente. Allora. Intanto inizio ad essere anche un po' assetato. Dovrei bere. Ma... Ciutato per lei. Ho fatto il livello. Comunque bevete a Chiara al Signore. Lei? Un buio. Un dark. Ok. Chiara al Signore. Una dark. Ma... Signore qui. Solo uomini. Questa sembra più una donna. Ma non lo so. Ah no. Non ci sono. Ma non clicca. Non c'è. Gliela do a caso. Vuole una birra? Le do la birra. Quella che costa di più. Prego. Rossa. Rossa per lui. Le facce non sono neanche così brutte. Comunque quelle delle persone. Io ho raffruttato. E abete rosso. Allora. Fruttato. Di qua. Abete rosso. Che era quello che dicevamo prima. Spruce. E questo è solo uno dei tanti lavori che si possono fare. Perché poi devo andare a fare di notte il carrello elevatore. Ma non ce la farò mai. Perché vedo che già la forza sta scendendo. Un buio e un fruttato. Un buio e un fruttato. Truissi. E un buio. Quindi dark. Dai. Questa. Dai sta finendo. Oddio. Due minuti e ventotto ancora. Basta. Livello due. Sto salendo. Ovviamente più salite più credo che vi paghino di più. Adesso noi prendiamo dieci all'ora. Quindi. Ok. Uno. Due. Tre. Abete rosso. Lui. Credo sia questo. Abete rosso. Basta. Abete rosso e fruttato. Abete rosso. E un fruttato. Eo. Allora. Fruttato. Avete rosso. Lei vuole un miele. Honey. Ok. L'ansore subito da lei. Adesso magari. Mi interrompo un secondo. Così arriviamo direttamente alla fine del turno del lavoro. E non vi tedi ulteriormente. Ok. Abbiamo concluso il nostro turno del lavoro. Ne abbiamo serviti quasi 40. Abbiamo ottenuto un bonus. Abbiamo fatto un bel po' di tempo. Perfetto. Abbiamo guadagnato 200. Paghiamo tutte le bollette tranquillamente. E ci siamo guadagnati da vivere. Ma. Non è finita qui. Perché adesso bisogna andare a lavorare all'altro luogo di lavoro. Bisogna andare ai carelli elevatori. Quindi è solo l'inizio. Perché adesso bisogna cambiare zona. Girare in su. Andiamo alla climax. E parcheggiamo l'esterno. E vediamo dove si sta andando. Comunque è notte adesso. L'ora. Sono le 23. Quindi. Alle 2 di notte. E siamo veramente sporchi. Siamo affamati. Assettati. L'energia è ancora abbastanza buona. La pulizia anche. No. La pulizia dire di no. Sta scendendo. Il bagno invece è tutto ok. Allora. Questo. No. La climax non è qui. Ma qui c'è un qualcos'altro. Track. Quindi mi sa che qua si lavorerà col camion. Qui si va a lavorare con i carelli elevatori. Doveva essere giù di qua. Eccolo qua. Questo è il posto di lavoro. Pensate che vi dovete arrecare qui ogni volta. Ok. Vediamo. Quella là sicuramente la macchina del capo. Ok. E qua si scende. Si va a fare il turno di lavoro. La climax logistic. Che mi dirà che non è ancora il mio turno di lavoro. Infatti. Non sono in orario di lavoro. Ora. Ne fumiamo una. Mi metto un po' di deodorante. Così vedete che mi torna su. Ah ok. Da usare proprio per. Mangiamo qualcosa. E aspettiamo l'orario di lavoro. Perché io credo che. Sui jobs. Operatore di carelli d'elevatore. 8 euro. Dalle 2 alle 7. Quindi bisogna aspettare le 2 di notte. Che aspetterò qua in piedi. Sono mezzanotte. Quindi aspettiamo. Aspettiamo le 2. Ok. Si può entrare un'ora prima. Diamo un'occhiata veloce a quello che possiamo fare in questo. In questo nostro turno di lavoro. Abbiamo. I carelli d'elevatori possono essere utilizzati per spostare il carico dei pallet. Utilizzare freccia su per sollevare. Freccia giù. Ok. Quindi cosa devo fare? Forklift operator. Ok. La visuale non è il massimo. Però. Cosa devo fare? Ah! Ma! Mi dice cosa devo trasportare. Ma pensa a te. Salveva. E' bello. E' meglio di un sacco di altri giochi. Devo dire. Ok. E praticamente qua andiamo a fare il turno di lavoro. No. No. E' un'altra cosa. praticamente qua così e guadagnare altri soldi quindi credo che abbiamo visto un paio di lavori che si possono fare calcolando poi che gioco in sviluppo quindi ci saranno cose da scoprire da vedere ancora ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo mi sembra veramente veramente molto ben fatto tra l'altro il gioco e dicevo in early access ci resterà almeno un anno lo stato attuale è completamente giocabile ci sono tanti contenuti già presenti e il prezzo dovrebbe rimanere sempre 20 euro quanto dicono gli sviluppatori fatemi sapere qua sotto nei commenti e alla prossima ciao ciao